Smart Power System è un distretto d'alta tecnologia che tende, mira a raccogliere le competenze, le conoscenze presenti in maniera estremamente valida nell'imprenditoria campana, oltre ovviamente alle strutture di ricerca delle università che partecipano in maniera estremamente intensiva al nostro progetto. Noi abbiamo nello Smart Power quattro linee di ricerca. Per sintetizzare, tre di queste sono fortemente interessate al settore Smart Grid, cioè reti intelligenti. Tenga presente che le reti attuali sono reti valide per il XX secolo e non più valide per il secolo attuale, perché sono strutturate in modo talmente rigido e antiquato, in assenza di qualunque collegamento informatico, quindi hanno difficoltà a raccogliere energie periferiche che sono tipiche di questo momento della generazione di grosse centrali eoliche, magari fotovoltaiche, ma di mille piccole iniziative in cui quelli che sono genericamente considerati utenti diventano generatori e diventano produttori di energia. La rete attuale non è in grado di sopportare anche solo la diversa direzione del flusso energetico, che prima era dal centro alla periferia, adesso è dal centro alla periferia e contemporaneamente dalla periferia verso il centro. Questo aggiornamento della rete passa attraverso soprattutto una conoscenza istante per istante di ogni parametro elettrico della rete, quindi sono monitoraggi continui su tensione, corrente, frequenza, forma d'onda della rete e trasmissione di queste conoscenze a ogni utente e a ogni responsabile della rete.